Dopo il Velox in via Lomellina, a Gambolò monta ora la polemica anche sui semafori T-Red. Mentre la politica locale si prepara a dare battaglia, con un'interpellanza da discutere nei prossimi consigli comunali, Globo Consumatori ha depositato i primi ricorsi contro le multe combinate dai semafori Rosso Stop agli incroci in via Lomellina e in via Fiume. L'associazione, che segue i ricorsi anche per le sanzioni del Velox fisso in via Lomellina, contesta la regolarità anche dei due impianti posizionati nel centro di Gambolò, di cui si contesta, secondo quanto si legge in una nota, l'utilizzo unicamente per fare cassa alle spalle dei cittadini. Sarebbero già un migliaio le multe già elevate in questo arco di tempo. Globo Consumatori ricorda anche le sentenze di accoglimento dei ricorsi contro i T-Red, non soltanto dai giudici di pace ma anche dai tribunali che hanno respinto tutti gli appelli presentati dalle pubbliche amministrazioni. Il riferimento alla decisione del comune di Gambolò che ha impugnato fino alla Corte di Cassazione un ricorso su una multa per il Velox che, inizialmente favorevole al comune, era stato ribaltato dal tribunal di Pavia. Tornando ai semafori T-Red a Gambolò, uno si trova proprio in via Lomellina, la strada dove era attivo il tanto contestato Velox, all'incrocio con via Garibaldi, la via delle scuole. L'altro si trova in Corso Umberto, la via principale del paese, all'incrocio con via Fiume e via Vecchia da Vigevano, le arterie che portano alla città ducale. I semafori sono attivi con il contasecondi per permettere agli automobilisti di fermarsi prima della striscia d'arresto. Qualora si passasse invece con il rosso o ci si fermasse dopo la striscia, si incapperebbe nella multa. La politica locale, intanto, si interroga sull'utilità del rosso stop in via Fiume. Le consiglieri di opposizione in quota centrodestra Elena Nai ed Elena Bologna in un'interpellanza rilevano come in via Fiume la linea d'arresto si trovi molto distante dall'incrocio per permettere agli autobus di passare. Un aspetto che, secondo le esponenti di minoranza, basterebbe a far credere che le contravvenzioni siano molto più gradite al comune di Gambolò rispetto all'esigenza di garantire la sicurezza. Nell'interpellanza si chiede quindi di fare chiarezza sulle valutazioni fatte riguardo la pericolosità dell'incrocio, sugli incidenti rilevati negli ultimi tre anni con eventuali morti e feriti e sulle multe elevate ad oggi. Seguiranno quindi ancora polemiche.